Due sportivi, due ragazzi, per il calcio sono fatti, son portiere e astaccante, Oli e Benji due speranze, loro vogliono sfondare e campioni diventare, per poter così giocare nella squadra nazionale. Nella squadra nazionale, Oli si allena tirando i rigori, Benji si allena parando i rigori, Sembrano partite di allenamenti, tanta è la classe dei due contendenti, Oli rincorre ogni pallone, Benji lo segue con attenzione, E questa sfida senza vincenti, fai dei ragazzi felici e contenti, Oli si allena tirando i rigori, Benji si allena parando i rigori, Sembrano partite di allenamenti, tanta è la classe dei due contendenti, Oli rincorre ogni pallone, Benji lo segue con attenzione,